weyla eccoci con il nostro classicissimo bitcoin update ci siamo qui in corsa in corsa per questo etf che ovviamente deve arrivare io ho mandato anche una newsletter però insomma diciamoci la verità ci sono talmente tanti canali di informazione su questo etf che ormai è fuori dalle orecchie quindi io comunque ho mandato anche una newsletter dando un po di informazioni eccetera c'è sostanzialmente ormai una corsa all'oro cioè proprio tra vari fondi che cercano di accaparrarsi la fetta più grossa di mercato però lasciamo questi discorsi a chi si occupa di fare solo informazione noi qui facciamo trading si sa che c'è sto etf si sa che ovviamente nel lungo periodo molto probabilmente porterà capitali immensi nel settore però non si sa se nel breve periodo comunque cioè siamo già sovrestesi e vedete che volatilità c'è guardate anche io ieri no vabbè to the moon poi però guardate che candeloni vedete quindi nel breve periodo o si è formati si fa trade si sta attenti eccetera o si prendono le supposte perché anche se viene approvato no magari c'è un sell the news magari c'è un pump però poi c'è un dump c'è ora punto è questo allora con il telegram noi siamo già posizionati io sono già posizionato da questa questa zona qui e qui quando mi sono posizionato che effettivamente vedete c'era la prima idea rifacciamo un piccolo recap c'è la prima idea che magari qua si andava in versione di lungo periodo perché comunque aveva rotto eccetera però questo top era fatto a capodanno poteva essere un fake quindi abbiamo aspettato comunque c'era qualche short dentro retest short tino short tino che però è rimasto sopra i volumi ripartenza rimaniamo continuamente sopra i massimi volumi no siamo rimasti continuamente sopra i massimi volumi e quindi qui l'idea da ribassista cambio trend di lungo si è trasformata in no aspetta qui c'è un riaccumulo sopra i massimi volumi e quindi c'è rischio di ripartenza forte a questo punto così è stato e qui però c'erano praticamente i classici quattro trade diciamo un po strutturati swing perché facciamo anche un recap delle puntate super precedenti perché comunque i vecchi trade swing che erano stati presi in questa zona qua i miei sono stati quasi tutti chiusi qui che adesso non mi vado a prendere l'immagine vedete anche video delle puntate precedenti io qui avevo chiuso quando ha fatto questa rottura qua dopo l'ustorelli avevo chiuso l'ultimo in training stop degli swing qua quindi sostanzialmente io di trade swing per insomma una altra cavalcata di un'altra bella leg up non ne avevo praticamente più qua dentro avevo lavorato più sui trading tra dei fino a capire se entrare con un trade swing o meno anche qui ho proprio provato un trade swing ho preso un target e però mi era tornato indietro quindi si erano annullati praticamente avevo preso un bel target qua però io puntavo più in alto e poi qui è andato di stop a zero c'è casino perché poi c'è la bufera di neve se sentite casino quindi qui comunque ci sono i tre strutturati di cui ho preso già io avverto sempre su telegram vi ricordo il telegram andiamo sul telegram adesso ma rivediamo anche altro io ricordo il telegram dove io scrivo tutto vedete scrivo tutto anche di aver dire qui adesso vediamo ero entrato in corsa adesso vediamo bene questa situazione qui vedete ho messo la tabella di dove sono long dove sono short dove sono long anche perché questo ricordiamo che ormai il telegram propedeutico anche al passaggio delle prop o per chi vuole fare forex o chi vuole usare le prop cioè questi sono strumenti che ci sono in tutti i broker classici delle prop dopo vediamo anche quello quindi questi si possono ottenere swing però adesso vedete nel breve che che macello perché adesso bisogna stare molto attenti perché per dire vedete io ad esempio qui ci stava che qui fosse ripartito un giornaliero e stesse già ritentando l'attacco allora onestamente è anche un po troppo presto primo secondo ma è non ha fatto nessun ritracciamento ma insomma magari l'asset è così forte qui ha fatto una partenza sai se andiamo verso l'approvazione eccetera può andare in rally velocemente allora cosa ho fatto ed è questo per farvi capire la differenza di quando uno si fa un posizionamento ad esempio su quattro ore swing come si può gestire no da quando si entra in corsa perché adesso sia in corsa tutti i tre di che si fanno adesso quindi questo video c'è anche soprattutto per chi è dentro il telegram se fai un trading corsa è molto pericoloso io qui l'ho spiegato come si fa un trading corsa vedete qui magari vedete qui c'è una sorta di bottom magari riparte giornaliero io aspetto un ciclo a tre ore mi metto long però qual è il problema che bisogna prendere un target subito e mettere stop a zero e per fortuna che in effetti ha fatto proprio così vedete così qui non sono riuscito a prendere un target me l'ha preso me l'ha preso proprio in questo spike qua no tac mi ha preso questo targhettino vedete che è proprio uguale non me l'ha preso qua vedete qui non ce l'aveva fatta e quindi era ancora in ballo ha dovuto dormire con le cuffie con gli allerti che succedevano casini non era riuscito cioè non ha senso mettere stop a zero se non mi prendi neanche il primo targhettino anche perché paghi le fees per prendere il stop loss ovviamente vedete prendi un primo target magari del 25% ti paghi le fees dipendi delle briciole e ti dà l'indicazione di mettere lo stop a zero poi magari ti fai un secondo target come ho spiegato qui un secondo target che va in training stop magari sui 5 minuti per dire inizia a farti ad esempio adesso no inizia a farti il pump poi fa così poi va ancora su poi fa così poi fa così lower eye rottura e ti fai e ti prendi il 50 il 50 75 per cento qua e poi se vuoi tieni uno stop a zero un'ultima fettina per il to the moon ti fa un mega tracciamento non te lo prende ma rimani dentro però qui quando si fanno i trading corsa e anche lo dico per chi è su telegram bisogna stare un po al computer bisogna stare con le cuffiette vedere l'alert eccetera se no si perdono soldi perché infatti vedete sbabam sbabam manipolazione ed effettivamente però qui come tempistiche per la cosa del giornaliero siamo più giusti qui era un po troppo presto effettivamente eh però però prima si guardano magari le conformazioni tecniche e poi si dice boh c'è il giornaliero qui comunque un giorno e nove ore anzi anche un po dopo perfetto con la chiusura del giornaliero infatti cosa che ho detto qua sul telegram ho detto eh mi è uscito in stop a zero no bitcoin è entrato no eh bla 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 mega pescone che mi stoppa a zero fuori sembra una manipolazione rientro al volo perché sono entrato al volo a parte il fatto che omega pescone ha ripreso subito la presa action perché comunque qui eh sono tempistiche più giuste per un giornaliero no adesso qui come tempistiche invece questo toppino o quello precedente soprattutto era un mezzo giornaliero inverso adesso stiamo comunque tenendo questa zona eh è partì se è partito così un giornaliero praticamente siamo già tornati al livello dove eravamo adesso qui c'è ancora un po di volumini però se fa la rottura eh questo fa un altro rally un altro rally tra l'altro adesso è con la storia delle tf spot sì etf spot no ormai è quasi quasi certo che sia sì al massimo rimanda ormai si sa già che c'è e in questo caso da quello che vedo è anche molto probabile che sto giro sia veramente un sì cioè non un rimando non rimando perché eh io che sono anche in america ho visto proprio le pubblicità in tv di bitwise sto pensando a bitwise cioè fanno il marketing e poi rimandano per altri mesi fanno la gara adesso delle fees c'è anche già eh più di uno che dice no no ma partiamo già con il trading sul nasdaq subito se non subito la prossima settimana cioè è molto 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 probabile adesso che da eh in qualsiasi momento generalmente magari a chiusura mercati o apertura mercati tipo oggi poteva essere già un momento poco prima dell'apertura di mercati e invece non hanno detto niente quindi può essere ad esempio già stasera chiuso il nasdaq che dicono boh allora proviamo e quindi bisogna essere dentro il carro comunque se non uno non è dentro il carro di breve dovrebbe essere già qua dentro adesso si può anche tentare però capite che tentare vedete cosa succede eh lo sanno anche gli operatori che si mettono qui stop stretto perché to the moon per l'etf ti macciacrano e essere preparati se no si bruciano soldi anche perché arriva l'umino leva 100x perché fanno l'etf poi ti fanno questa manipolazione qua e poi bisogna vedere anche quando lo provano magari può fare il pump o il crash cioè bisogna essere pronti bisogna stare molto attenti essere preparati essere sul pezzo io scriverò tutto sul telegram starò molto sul pezzo ovviamente sti giorni perché è una cosa importante comunque al di là del breve periodo pump and dump è quello che è nel medio lungo che magari si vede neanche nei prossimi tre mesi ma ti fai il mega pump e uforia poi il mega ritracciamento come abbiamo visto nel video del primo gennaio che vi consiglio di andare a vedere quei target che avevo fatto di uforia e poi di potenziale ritracciamento lo rivediamo perché magari qualcuno non si vede tutte le puntate precedenti facciamo sempre un piccolo recap rispiegando certe cose no? qui ad esempio c'era la confluenza di tempo di livello di uforia vedete qui confluenza dei massimi della trend ascendente della partenza di questo mega ciclo che non è un ciclo secondo me di solo 4 anni ma anche un ciclo di 16-12 anni insomma e quindi ci sta che vada anche solo nella prima fase espansiva del ciclo già quasi sotto i massimi può essere che se non per questa zona qua comunque accelera cioè se adesso rompe qua fa una lega per parte dell'euforia accelera accelera qui abbiamo già visto che non ci sono volumi cioè ci sono pochissimi volumi qua vedete anche quando c'è stato il bull market nel 2021 quando rompeva questa congestione qua accelerava anche qui accelerava no? anche qui accelerava a ribasso poi poi il crash del 4 dicembre 2021 no? ha perso la zona qua ha accelerato a ribasso cioè qui c'è come un semi vuoto quindi se rompi queste zone qua rompi questo mitico 48k che era lo swing del 2022 da cui è partito il vero puro e duro uber market c'è rischio di accelerazione pesante no? quindi può accelerare però poi come abbiamo visto poi magari può fare la mega euforia e poi il sell il sell che magari fa un crashone perché comunque qui poi vai in iperestensione succede il contrario perché di nuovo se arrivi qua e fai resistenza qui di nuovo c'è vuoto fino a qui ma poi se parte per esempio un po' di fad, un po' di crash, un po' di eccetera puoi andare anche sotto perdi anche questo livello perché vai in crash come succedono i classici crash magari in euforia ta 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 perdi e poi vedete perdi non solo perdi e vai nel livello precedente vai in spike molto più sotto puoi magari lo recuperi per carità però intanto magari in spike vai veramente veramente sotto no? anche se poi lo recuperi quindi può farti il crashone che va magari in spike qui per dire boom poi lo recupera vabbè però capite che ci sono momenti di super euforia questo ovviamente parliamo di breve di breve però chiaro che nel lungo periodo adesso io non voglio fare il plan B della situazione è 100k su 11 candele di candele di 10k ogni 5 minuti eccetera però bisogna essere veramente allora innanzitutto bisogna essere rilassati perché cioè pensiamolo ma non facciamoci troppo prendere dalla fomo dall'emozione eccetera però se bisogna dire la tutta secondo me effettivamente sto giro numeri da capogiro come capitalizzazione di bitcoin nei prossimi anni per me ci stanno cioè perché entra l'euforia entrano i megafondi poi ricordiamoci che la supply è limitata e ci sono 4 milioni almeno di bitcoin persi con una supply limitata cioè è il peggio dell'oro proprio molto peggio dell'oro digitale e l'alwin dimezzerà anche insomma i medici si dimezzerà tra poco non è che voglio fare la fomo dell'alwin eccetera perché è la domanda che è straripante più che l'offerta l'offerta ormai abbiamo già minato oltre il 90% di bitcoin siamo oltre 19 milioni più 4 milioni persi cioè è la domanda che fa da driver infatti la domanda con gli etf potrebbe diventare straripante e siamo comunque ancora all'inizio parlando di macroeconomia all'inizio di un ciclo prendiamo quindi qualcos'altro come il nasdaq vedete qui che tra l'altro vediamo anche cosa fa il nasdaq nei secoli più avuto ieri classica polemica di discussione quando vado in giro e vedo la gente dove investisce dove investisce si investisce mamma mia si vede che mi sono appena svegliato e sto dormendo poco dove investe nel lungo periodo mi viene un'ansia mi viene un'ansia cioè guardate allora vediamo se c'è un nasdaq più lungo dove c'è un grafico che c'è più storico vediamo cioè ancora ci sono i classici forum quella gente ho 100k dove li investo oppure io ho investito in questo ancora ancora nel 2023 quella cazzo di casa in affitto o il bond di merda che ti danno gli interessi di 4 spiccioli incoriandoli no che poi si inflazionano e non valgono un cazzo no e per diventare per cosa per prendere 4-5% di niente mentre tutti i mercati fanno il 500% da anni cioè questo è il nasdaq cioè no cioè guardate che roba qui è quanto cazzo ha fatto negli ultimi anni cioè 1500% ma andiamo nel passatissimo prendiamo il logaritmo poi non si neanche si vede cioè sono decenni che va su come un cazzo di missile no che cazzo vai a mettere i soldi nei merda di bond porca puttana che cazzo vai a comprarti la casa in affitto che siamo in calo demografico ti rubano tutti i soldi fra imu spese poi metti dentro un inquilino per l'affitto ti distrugge la casa cioè vabbè perché perché cazzo metti i soldi nel nasdaq e aspetta perché la tecnologia è il futuro non la cazzo di casa non siamo negli anni 20 cioè siamo nel boom immobiliare degli anni 60 è finita quella roba da 50 anni cioè questa è già dagli anni 80 capito che questo è il trend no 11.382% sempre su perché i mercati vanno su ma non è perché vanno su così al di là della manipolazione perché questo è il futuro è qui che si sviluppa la tecnologia l'iPhone ce l'hanno in mano tutti no e si sviluppa c'è l'iPhone magari invece dell'iPhone fra qualche anno c'è il cazzo di visore no sia dell'Apple sia c'è il MetaQuest questo magari fra qualche anno c'è qualcosa altro tecnologico la realtà aumentata virtuale eccetera ma non la casa che cazzo te ne fai di una casa c'è niente devi investire sulla tecnologia bitcoin è il mostro del futuro perché la piattaforma poi anche tanti fanno parone sì ma l'Apple non so vende questo l'azienda vende quello bitcoin che cosa produce cazzo bitcoin è un servizio è un'infrastruttura se Apple produce gli smartphone quello che è che cazzo se ne fa la gente degli smartphone senza internet internet è un'infrastruttura che cazzo se ne fa di un iphone senza la rete elettrica che non può ricaricarlo elettricità impianti sono un'infrastruttura che cazzo te ne fai di come fai a comprarli se non c'è una rete autostradale se non c'è un impianto in cui i camioncini arrivano agli Apple Store portando la merce è un'infrastruttura sono le vene le vene dell'economia la vena cioè praticamente l'arteria la orta che sarà nel futuro dell'economia sarà cripto che poi faranno casino ovviamente ma Bitcoin stesso perché secondo me tutto si svilupperà là dentro a parte la finanza che si sa la finanza adesso è tutto oro digitale la finanza perché il wallet è qua ma quella è la punta dell'iceberg la punta puntina che diciamo è quello sì è anche quello ma sotto c'è una una roba una montagna gigantesca di quello che è sotto sottofondo che può svilupparsi nel futuro che può diventare qualcosa di osceno un internet 3.0 ma molto molto meglio in cui puoi sviluppare dentro qualsiasi roba e renderla reale no questa è la realtà questo è il futuro no siccome ero arrivato a fare questa polemica proprio ieri no cioè che cosa vai a investire in una casa ma lo vedete come sono già gli sbarbati che non sono ormai più uno sbarbato ma prendete il classico ventenne venticinquenne quindicenne che cazzo ne ne frega di comprare la casa la muratura gli uffissi me la pitturo me la in bianchino taglio l'erba non fanno un cazzo questi non ne frega niente di sta roba possono vivere nell'oculo monolocale domotica no con elettricità tutto un affitto tutto compreso non ne frega un cazzo del mutuo della casa zero no e però capito hanno il meta quest la console e poi sarà ancora peggio entri nel mondo virtuale nella realtà aumentata e vivi così non ne frega un cazzo del reale il reale l'economia reale il mondo reale varrà sempre più zero assoluto qualsiasi cosa che costruisci qualsiasi lavoro che fai nel reale sarà solo uno scam si sposterà è già spostato tutto nel digitale negli ultimi vent'anni ma non ha questo digitale non ha ancora praticamente quell'alito di vita che lo rende divino che lo rende veramente quella linea di demarcazione che fa diventare il digitale da un qualcosa che non ha praticamente un collaterale che non gli dà valore tu metti un'immagine su internet ok coppia in colla ce l'hanno tutti no non ha quella quell'esistente che gli dà consistenza c'è tanto digitale però non ha non ha valenza in qualche modo cioè ha una certa valenza ma non tra virgolette palpabile fisica quello che deve fare ad esempio un bitcoin no è dare un alito di vita una consistenza al digitale perché quando tu lo inserisci dentro il protocollo degli dei lui in maniera divina lo rende immortale no li fa come gli nft in qualche modo no cioè se tu inserisci un mondo virtuale all'interno di una piattaforma che nella tendenza anch'essa tende all'immortalità data dalla dell'energia dal mining data dalla sicurezza della decentralizzazione eccetera eccetera tu in quel mondo là gli dai validità no quindi se tu costruisci un videogioco del cazzo oggi no uno arriva centralizzato cancella fa tutto quello che c'è dentro i personaggi che ci sono dentro la spada laser non valgono niente cioè valgono per l'intrattenimento ma non hanno un valore reale se tu invece inserisci questi tipi di realtà in una piattaforma validante che viene validata tramite l'energia no tramite il tempo e l'energia in un protocollo che è decentralizzato non manipolabile tendente all'eterno eccetera quel mondo là anche di un videogioco qualsiasi di una favola qualsiasi è quasi quasi come se per magia prendesse veramente vita no diventa quasi reale prova a mettere un personaggio dotato di intelligenza artificiale dentro questo mondo è quasi come se fosse dentro un mondo collateralizzato con la fisica del reale dell'energia nostra che fa da ponte a questo mondo digitale però che gli dà un alito vitale cioè diventa una persona viva quasi no è un qualcosa di di assurdo ma secondo me non è tanto assurdo siamo quasi veramente nell'era matrix secondo me dai prossimi decenni e quindi il digitale il mondo che verrà costruito in digitale che poi può diventare una sorta di bridge no come sta facendo l'apple che sta più sviluppando più che sulla realtà virtuale che è più una cosa da meta la meta quest videogiochi più virtuale più metaverso no apple sta sviluppando più sulla realtà aumentata però sono fratelli è un ponte no è un ponte per cui tu esci di casa e c'è una realtà però con un visore con quello che è pim pum pam diventa una realtà aumentata quindi vedi digitale nel reale no che abbiamo già avuto il primo impatto con quel cavolo di pokemon che andavi in giro a cercare no sarà ancora peggio in futuro quindi il reale diventerà sempre meno valente qualsiasi cosa fai nel reale qualsiasi lavoro qualsiasi cosa possiedi nel reale diventerà sempre meno valente e quindi che cazzo va a investire in una merda di casa ok piccola polemica chiusa polemica torniamo a noi non lo so ogni tanto parto ok quindi qui cosa siamo stiamo già a un pendario alzo secondo me ci siamo poi c'è da dire che comunque insomma i capitali adesso nel breve periodo senza andare sulle realtà virtuali digitali saranno miliardi decine di miliardi fondi di investimento no come black rock eccetera cioè neanche fanno le tf vogliono guadagnarci stanno facendo una gara delle fees perché vogliono prendersi la fetta di mercato ma il problema è che i bitcoin sono limitati cioè non è che il capitone ne stampi di più è buona no sono illimitati cioè sono limitati cioè quelli sono quindi comunque secondo me può esserci veramente una corsa all'oro nei prossimi anni poi potrebbe esserci una mega bolla bla 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 eccetera e poi magari fra 20 anni poniamo perché non sarà subito fra 20 anni si capirà che non è solo finanza ma è molto altro nel frattempo quello che deve fare molto altro probabilmente ci saranno tanti progetti della minchia delle altcoin però come ho già detto i progetti della minchia delle altcoin possono essere carini quanto volete no ma non hanno non hanno i fondamentali non ne avranno mai i fondamentali non avranno mai la decentralizzazione vera non avranno mai il proof of work che ha bitcoin non avranno mai quelle 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 dinamiche essenziali che hanno portato bitcoin a essere quello che è oggi il vero decentralizzazione il vero mining eccetera hanno quella merda di proof of stake no ho più ethereum comando la rete che cazzo è non è decentralizzazione quella è una minchiata no vabbè ogni tanto mi perdo scusate detto questo detto questo torniamo a qualcosa di più classico cioè il trading allora qui molto probabilmente come abbiamo detto ha chiuso il nostro giornaliero qui si è chiuso il giornaliero qui abbiamo anche il nostro primo tre ore vedete anche un po' meno rialzista adesso qui stiamo anche rompendo verso il rialzo qui che sia questo questo molto probabilmente qui c'è il centro del mezzo giornaliero inverso probabilmente questo perché dopo ha fatto lo scatafascetto quindi qui si può anche vedere in questo modo vedete qui c'è il nostro mezzo perché è mezzo come a tempo vedete mezzo qui o qui e adesso chiaramente si vincola rialzo poi anche appena partito un giornaliero rompe tutto cioè se rompe tutto tra l'altro abbiamo detto può accelerare e in più la notizia di questo etf può essere che venga anche stasera o anche domani mattina però siamo qui siamo lì cioè già questa sera i prezzi e le notizie queste robe si vedono già dai prezzi il fatto che abbiamo rotto così a rialzo e abbiamo ottenuto il prezzo si vede già dai prezzi cioè però quella è il punto si vede già dai prezzi quindi allora va ancora per su e quindi magari ha già fatto il target che doveva fare quindi quando arriva la notizia va giù cioè capite per questo bisogna posizionarsi con l'analisi tecnica le notizie e non ne parlo quasi mai qua le tf si e tf no perché le notizie gli impatti fondamentali eccetera sono già nei prezzi li vedi già dall'analisi tecnica se ti sei posizionato in tempo godi se arrivi come l'ultimo dei macacchi magari rischi di prendertela in quel posto ok poi andiamo a vedere un'altra cosa andiamo a vedere questo più per le proprie il DXY che guardiamo sempre il DXY qua in realtà avevo entrato un altro con un'altra allora io ero già entrato short da queste parti qua avevo preso un target qui poi avevo messo qualcosa e mi è andato anche in stop a zero qui avevo pensato di rientrare adesso però vedo che sta ancora facendo un pampettino non buono però perché qui vedete c'è stata una sorta di rottura della trend che ho aggiunto delle posizioni per carità niente di drammatico però però ancora qui non vuol scendere insomma fastidiosita sta cosa non vuol scendere siamo nella zona dei massimi accumuli chiaramente se mi si mette sopra questo top dovrò uscire dovrò uscire dal forex perché la situazione diventa veramente bruttina adesso qui comunque continuano anche se mi rimane anche se mi arriva fino a vicinissimo a questo top comunque siamo in una zona cioè continuiamo a fare comunque massimi decrescenti no adesso qui una sorta di piccola tentativa di rotturina c'è e non mi piace tra parenti e non mi piace però c'è ancora tempo per vedere che cavolo vuole fare onestamente mi pare strano che in una situazione in cui vedete anche il Nasdaq vedete che pump e sta riprendendo la corsa a rialzo e bitcoin comunque magari fa anche partita a sé però mi pare strano che in una situazione in cui comunque i mercati riprendono a salire perché sono dentro anche sul Nasdaq comunque da questa parte qua riprendono a salire il DXY boh non scende cioè adesso vediamo qua vediamo però comunque potrebbe anche essere un brutto segnale nel senso che vabbè Nasdaq fa il retest dal basso cosa che può fare solo le teste a basso poi continua la corsa ribassista bitcoin viene approvato l'etf euforia eccetera è però poi il DXY invece che crollare inverte e allora sono un cazzi per tutti comunque intanto io qui siccome ci sono tanti trades sul forex starò attento a sto merda di DXY che per ora non mi piace tanto quello stock che sta facendo onestamente voglio vedere un po' le tempistiche probabilmente il vero giornaliero è partito da qui quindi siamo ancora all'interno di questo giornaliero qui sto top di inverso è molto vicino infatti potrebbe allungare un po' il top qua stare facendo proprio il top dell'inverso adesso infatti va dato un giorno e sei ore come bitcoin circa di solito è un po' più veloce è il DXY quindi vediamo potrebbe essere adesso l'ultima sgruppata per il top del giornaliero inverso che io ovviamente pensavo fosse questo però adesso sono appena partiti anche i mercati americani c'è volatilità certo è che se comunque mi va qua sopra e non mi piace più non mi piace più la situazione cioè non tanto qua sopra vediamo è più magari qui che è un problema grave questo ancora ancora però non mi piace lo stesso e penso che chiuderò tutti i forex in perdita in perdita in realtà ho preso già un target qui quindi magari fai la somma delle cose e dici qualcuno mi ha dato il stop a zero vabbè però non mi piacerebbe quindi stiamo attenti a questa a questa situazione qua per ora può essere soltanto l'ultima sgruppata invece che avete chiuso qui ti fa l'ultima sgruppata ci sono appena partiti anche i mercati americani quindi ti fa l'ultima sgruppata qui quattro ore bisogna capire se aveva già fatto un top e sta già mi ha già vincolato a rialzo purtroppo potrebbe anche essere così perché si ha fatto questa roba qui adesso adesso può andare ancora più su però non è detto dai non è detto stiamo attenti a questo top va bene e poi volevo far vedere insomma qui come stava andando con la prop però probabilmente adesso starò andando un po' in drawdown perché c'ho i forex dentro c'ho un 2.0 sì probabilmente ero sul 3-4% adesso vedete qui c'è un po' di discesa perché avrò i forex dentro che stanno andando così con la io vi ricordo qui che c'è questa questa promo ce n'è anche un'altra che adesso mi rimetto sul telegram che ho segnato qui vedete altre scontistiche con dei codici io c'ho il codice quello dell'affiliato che mi sono fatto dare in quanto youtuber che vi dà uno sconto in più ci sono questi sconti qua se volete provare io al di là di fare promozioni che non è che mi diano mi danno praticamente niente ve lo dico non è che sto facendo promozioni perché devo guadagnarci io per me è un'occasione cioè io l'ho fatto perché io vedo che è un'occasione nel senso comunque ti fai la challenge impari a tradare impari a gestire il conto e poi magari ti hanno un conto reale cioè perché no io sto già spostando sinceramente i miei capitali del trading in modalità investimento e sto facendo trading solo con la prop così cioè il mio capitale che magari era fermo lì sul conto trading per fare trading lo sposto direttamente investito e trado solo con i soldi che mi dà la prop sinceramente mi sto già spostando così adesso però ogni volta che guadagno faccio un perlievo con queste prop magari faccio un'altra challenge per una prop più grande il conto a 100k 200k e vediamo vediamo come va per ora mi sembra una buona occasione vedete voi dopo le polemiche dopo gli insulti gli investimenti da boomer dopo questo ETF si e TF no questo DXY che non mi piace diciamo che possiamo aver detto tutto riguardiamo velocemente Bitcoin cosa sta facendo con questo DXY che non mi piace fa un po' fatica però siamo ancora lì fa un po' fatica ma siamo ancora lì vedete fa un po' fatichetta pesca pesca perché sta facendo fatica a passare questo pochetto però il punto è questo stiamo continuando a sbattere lì quindi adesso è partito comunque un ciclo giornaliero quale sicuramente ed è già qui dopo due due sgruppatini per me è molto probabile che rompa rialzo se devo dare una probabilità è molto probabile che rompa rialzo però vediamo vediamo anche perché questo DXY è strano che faccia questo pump è perché comunque il DXY è di là del Forex è correlato al fatto che la gente ha più paura di stare investita vende il Nasdaq e gira in dollari ovviamente quindi l'XY sale per dire qui dopo la mega cavalcata fino a fine anno infatti c'è stato un ritracciamento anche del Nasdaq vedete prendiamo un time frame più adeguato andiamo in 4 ore no c'è stato un ritracciamento del Nasdaq perché allora la gente vende il Nasdaq in cosa? in dollari ovviamente le azioni quello che è in dollari allora il DXY sale no fa un rimbalzo adesso però sto Nasdaq sta continuando a salire sta facendo un rimbalzo e il DXY che mi continua a salire mi par insomma strano ecco tutto qua vediamo se comunque vedi siamo già vicinissimi se mi rompe sto top io ho un alert nel dubbio chiudo tutto casomai rientrerò e perderò un po' di briciola di perdita per questo video è tutto vi aggiorno su Telegram e ciao ciao